Comandante, qualche settimana dietro a Gela si è verificato un episodio cruento, ci riferiamo all'omicidio del 56enne Domenico Seguino in pieno centro storico, in piazza, durante lo shopping natalizio. Le chiedo intanto a che punto sono le indagini? Le indagini stanno andando avanti, ci siamo fatti un'idea, ma c'è ancora da lavorare. Se si spara in piazza, in pieno centro, intorno alle venti di un giorno quasi festivo, che significato ha? Vuol dire che la mafia in quell'occasione ha voluto far capire che è presente sul territorio e può sparare a qualsiasi ora e in qualsiasi posto? L'idea che ci siamo fatti non era di un segnale a chi che sia. Di sicuro nel fare quell'azione si voleva dare un segnale a qualcuno, non certo alle istituzioni, non era un segnale di tipo terroristico mafioso, però di sicuro farlo in quel momento, in quel luogo, questa azione ha una sua valenza anche simbolica, certamente. Come vediamo che l'esecuzione di stile è praticamente mafioso? Lo stile è quello, per dire che sia quello anche il movente è ancora presto. Le chiedo, in cosa scavate? Gioco d'azzardo, un diritto passionale, c'è la mafia? Domenico Seguino ha un passato criminale importante e di sicuro si parte da quello. In quel caso la gente che faceva shopping è rimasta sconcertata da quello che è accaduto? Certamente, il fatto è preoccupante e posso garantire che lo stiamo analizzando con la dovuta attenzione. Ci saranno risvolti immediati, secondo lei? Non dipende, questo non dipende da me e non siamo comunque ancora al punto da poter prospettare dei tempi. Sono in due che hanno sparato perché voi avete anche acquisito le immagini del sistema di disorveglianza in cui si vedono che sono due ragazzi in sella ad un motorino. Sì, questo è corretto.